E' una eruzione stromboliana. E' una eruzione stromboliana, questo significa che questo volcano aveva un momento di explosività alternato a momenti di calma. Le eruzioni stromboliana non sono eruzioni molto, molto explosivi, hanno explosività, ma la più bassa che ci sono. Grazie a tutti. 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 Wow. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.